Inaugurata la nuova caserma di Monteverde a Roma, alla cerimonia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, Paolo Martini. Tappeto rosso, militari dell'arma schierati per la nuova caserma di Monteverde a Roma, è un ex padiglione dell'ospedale Forlanini, attivo già da qualche settimana e oggi inaugurato ufficialmente alla presenza del comandante generale dell'arma, Teo Luzzi, e del ministro dell'interno Piantedosi. C'è la presidente del consiglio comunale di Roma, ci sono alcuni ragazzi delle scuole vicine con cappellini e bandierina d'Italia. Luzzi dal palco saluta le autorità, compreso il prefetto facente funzioni di Roma. Proviamo a chiedere al ministro quando arriverà il titolare pieno di un incarico vacante da quasi due mesi, ma lui non risponde. Ministro sulla domanda, sull'apertura, ma si sentiva bene? Chiediamo al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma se il suo lavoro sia più complicato senza un prefetto titolare. Sono certo che l'impegno, la determinazione, la volontà di tutti coloro che stanno lavorando in questo momento sapranno fornire risposte adeguate e concrete ai bisogni di sicurezza della città. L'idea di una caserma in questo edificio ha quasi due lustri. Scusate il ritardo, però sono davvero felice di avercela fatta dopo nove anni e mezzo. Non oso dire dieci, ma ripeto, tutto inizia nella mia stanza con il generale dell'arma dei Carabinieri Gallitelli. E oggi abbiamo tagliato il naso. Oggi la nuova caserma è lì, un altro tassello insieme ad altri presidi di legalità e di socialità. Stiamo facendo nei luoghi della cosiddetta movida, stiamo ripristinando i presidi presso i poli ospedalieri. Stiamo cercando di farci carico, proprio come dicevo, di quei problemi più emergenti che non sono solo di sicurezza tradizionalmente intesa, ma incrociano proprio i problemi emergenti della società così come si stanno manifestando.